Sì, è stato potente come se siete. Ora ci sono qui. Sì, è aperto. Qua di più, se vuoi, quando penso, da tutta la rica. Quindi è stato un po' più soddisfatto. Ma ce ne stanno? Nonunyannoni, un po' più. Il fritto del 80 одну. Quo'è la pelle? È stato un po' più piccola. Vieni a sempre fare un po' più piccolo. Quo' è stato un po' più piccolo. È stato un po' più piccolo. Grazie.